Noi ci siamo voluti poggiare esattamente come dicevo prima su chi sa fare storia, cioè chi ha gli strumenti, ha le competenze, ha le conoscenze, non ci si inventa storici praticamente. Quindi noi abbiamo la fortuna di avere questa rete di istituti storici ormai molto valida che da anni conduce un'esperienza e un percorso ormai certificato direi nazionalmente, tant'è vero che appartengono tutti alla rete nazionale dell'ISMLI, appartengono o sono collegati alcuni dei soggetti che afferiscono alla legge e alla rete nazionale dell'ISMLI, oppure viceversa quei soggetti che hanno un compito di conservazione e valorizzazione dei luoghi della memoria, i cosiddetti luoghi della memoria, che abbiamo voluto identificare come luoghi non soltanto simbolicamente perché lì è accaduto un fatto importante, ma quei luoghi della memoria in cui insistono archivi, biblioteche, centri di documentazione che in qualche modo sono funzionali ad un'idea di didattica e divulgazione, di chi arriva in quel luogo e ha l'opportunità di studiare, consultare, approfondire quelli che sono stati gli eventi che in qualche modo hanno caratterizzato quel luogo nel contesto di una fase storica particolare che può essere la nascita nei primi del Novecento del movimento socialista cooperativo, passando per la prima guerra mondiale via via fino agli ultimi anni del secolo scorso tratteggiati anche da eventi drammatici di terrorismo e stragismo.